Il lavoro è la più efficace forma di emancipazione che si possa immaginare. Se la cooperativa agricola La Fonte di Cercina avesse un motto, senz'altro sarebbe questo. Nata nel 1982 grazie all'intraprendenza di un gruppo di amici desiderosi non tanto di avviare un'attività produttiva, ma più che altro di mettere in moto un processo virtuoso di solidarietà sociale, la cooperativa La Fonte si configura come uno dei più interessanti esempi di agricoltura sociale della Toscana. Qui, sulle colline che sovrastano Firenze e a pochi chilometri dall'ospedale di Careggi, 18 ragazzi dalle disabilità sensoriali e psichiche più diverse e provenienti da tutta Italia trovano nel lavoro nei campi e nella cura degli animali una vera e propria missione. Qui a Cercina c'erano due persone, Andrea e Vanna, che erano tornate da poco dal Brasile. Avevano avuto dalla curia di Firenze in affitto un podere, quindi casa e terreni. Queste due persone facevano parte di questo gruppo iniziale di amici e hanno messo con molta generosità a disposizione di quest'idea una buona parte dei terreni che avevano avuto in affitto. 23 ettari di terreno per la precisione, gestiti da una cooperativa di soci che in una prima fase ospita tre ragazzi rapidamente, diventati cinque, questo fino agli anni 90. Gli anni 90 erano anni colmi di gioia, era un paradiso, qui era bellissimo, c'era tanta gente che veniva, tanta gente che era interessata a queste tematiche, i ragazzi che crescevano tantissimo, le famiglie che erano felicissime. Via via che cresceva il numero di persone, ospiti di questa cooperativa, perché c'era una richiesta enorme da parte delle famiglie soprattutto e anche da parte delle istituzioni locali, le ASL in particolare. Via via che cresceva il numero di ragazzi ospiti, cresceva l'esigenza di aumentare l'attività in maniera che ci fosse la possibilità di far lavorare queste persone. Se vent'anni fa il lavoro si riduceva a stare dietro a polli e a qualche gallina, oggi per i 18 ragazzi della cooperativa non c'è più un momento di pausa. Giovanni, ad esempio, sa che ogni mattina deve passare a dare da mangiare ai conigli prima di correre nell'aia a raccogliere le uova. Fabio invece, che non è completamente sordo solo perché porta un apposito apparecchio auricolare, ha il compito di badare ai maiali e lo fa con piglio autoritario aiutato da Francesco, 24 anni, di Cremona, a Cercina, ormai da sei anni. Lui è uno dei due ragazzi che lavorano alla cooperativa e beneficiano di un sostegno economico da parte della regione, che varia anche in base alle ore lavorate. Si comincia con poche ore al giorno, con pochi giorni alla settimana, per arrivare poi a fare un lavoro pieno come tutti gli altri. Quindi 400 euro alla persona che viene inserita nel lavoro per la prima volta, 200 euro al mese per chi gli insegna il mestiere per dare un piccolo aiuto anche all'accompagnatore e 1000 euro l'anno all'azienda per comprare i piccoli attrezzi che servono per cominciare questa attività. Oltre a Francesco, anche Serena riceve un piccolo aiuto economico da parte della regione toscana. Lei però, che in cucina ha trovato la sua dimensione ottimale, preferisce non essere ripresa dalla telecamera, ma garantiscono amici e colleghi, è una grande lavoratrice e l'aria di Cercina le fa bene, tanto che ha anche iniziato un corso d'inglese. Alla fonte le attività vengono coordinate dal presidente della cooperativa, Stefano Manzi, che ogni mattina, oltre a sporcarsi le mani in prima persona, assegna i diversi compiti ai ragazzi. Le colline di Cercina sono famose per la qualità dell'olio che si riesce a produrre in questa zona e anche i ragazzi della fonte hanno le loro piante e la loro produzione propria, che poi vendono direttamente. Noi abbiamo 1600 piante in produzione di olive. Quest'anno abbiamo avuto sui 110 quintali di olive e di olio 13 quintali circa, perché quest'anno è un po' generale, è stata una resa non elevata, per cui sicuramente anni passati avremmo fatto molto più olio con questa quantità di olive. Ora che la stagione della raccolta è finita, i ragazzi si preparano al prossimo anno, riparando ago e filo alla mano le reti necessarie per raccogliere le olive, segno che quella della fonte si configura come una vera e propria attività produttiva. L'allevamento e la produzione di olio corrono infatti di pari passo con lavori di carpenteria e di manutenzione di alcuni corsi d'acqua su richiesta dei consorsi di bonifica. Un servizio a 360 gradi che accomuna la fonte alle altre 52 cooperative sociali che in Toscana offrono un lavoro retribuito a 362 ragazze disabili, anche grazie ai 2 milioni di euro stanziati dalla regione tra il 2012 e il 2013. Un modello fatto dunque di imprese sociali. Cioè imprese che assumendo responsabilità si fanno carico dei problemi del territorio, si fanno carico dei problemi dell'ambiente, oltre che chiaramente dei problemi collegati alla produzione di alimenti. L'agricoltura svolge questa multifunzionalità che gli è proprio propria da secoli. Solo negli ultimi cent'anni con l'era del petrolio e del carbone l'avevamo persa, ma ora la stiamo riconquistandola. Per farlo l'assessore Salvadori si è impegnato a rifinanziare questo modello di agricoltura anche per i prossimi anni, sfruttando i fondi europei destinati al sociale. Ma l'auspicio per chi queste imprese le ha viste nascere è l'autosufficienza economica. Se noi riusciamo a mettere in piedi e a far stare sul mercato una struttura come la cooperativa, siamo in grado di dare strumenti di emancipazione personale ai nostri ragazzi e costiamo fondamentalmente molto meno che non le strutture assistenziali. E gli effetti positivi sui ragazzi sono sotto gli occhi di tutti? Sul finire degli anni 90 infatti la cooperativa ottiene dalla Curia il permesso di ristrutturare questa vecchia casa colonica e la trasforma in una casa famiglia. I ragazzi mangiano, ridono e scherzano tutti assieme, ma soprattutto si danno una mano nel lavoro nei campi e nell'accudire gli animali. C'è una mutualità interna, cioè si innesca un meccanismo fra di loro nello stare insieme, nel vivere insieme, che chi è in grado di dare un capellino di più lo offre all'altro. La scelta di dotarsi di una casa famiglia dove far vivere i ragazzi ha anche un obiettivo terapeutico. Quello di uscire un po' dalle famiglie, perché le famiglie per quanto facciano diciamo però sono in alcuni momenti possono essere anche un pochettino un limite per i nostri ragazzi e quindi era quello di cercare di farli uscire in maniera che potessero vivere una dimensione extra famiglia come ogni persona normale fa. Oggi invece la situazione sembra essersi capovolta e sono proprio i problemi familiari a portare molti dei ragazzi alla cooperativa La Fonte. Abbiamo visto nel corso degli ultimi anni c'è una richiesta maggiore di situazioni di disagio, di situazioni in cui con la famiglia c'è grossi problemi, per cui un handicap portato dalla situazione più che dalla natura. La natura dal canto suo continua ad aiutare i ragazzi nel loro percorso di reinserimento sociale e la regione toscana continua a fare la sua parte per fare in modo che il lavoro continui ad essere la forma di emancipazione più efficace.